Seconda sconfitta consecutiva per i Montevarchi, di Mr. Rigucci. Non si parla di crisi, anche perché il vantaggio è ancora tanto per la capolista. Certamente Montevarchi non è quella corrazzata a mazza campionato, come alcuni pensavano. Cronaca dalle poche emozioni. Parte subito bene Montevarchi. Grossa occasione per il rosso e blu, Monash e Luder per il vantaggio montevarchino. Ancora Montevarchi, applausi per il successo, sinistra micidiale, Paoletti rimane immobile, traversa Fiena. Saffaccia in avanti anche in grassi, da svolgere il primo tempo, contro Fiedi e ospite, Coppi e Bravo a chiudere sul lanciato Bruni. Con il secondo tempo andiamo con i Montevarchi in avanti, la scebbe, esterno destro, non preoccupa il portiere Paoletti. All'undicesimo, a sorpresa di tutti, Grassi nel vantaggio, traversone di Renna, esce male Coppi e Bencini lo punisce. Reazione sterile quella di Montevarchi, su calcio da fermo la scebbe, pallone a fili montante. Mezz'ora superata, giocata adesso sì in aria, ma Monash è in ritardo per il tocco vincente. Continua l'aggressione di Montevarchi, ma per Paoletti nessun problema. Quindi la gara si conclude con la vittoria del Grasena che spugna e brilli peri.